La sedata odierna, meditatissimo applauso e iniziamo dall'Under 6! Che belle che sono mesi da zombie, guarda! Mi raccomando, stanotte quando rientrate a casa andate nel letto dei vostri genitori e fatteli spaventare! Continuiamo con l'Under 9! E prolunghiamo l'applauso per l'Under 12! Seguita dalla Under 13! E' arrivato il momento di ringraziare la Hopen! Altro applauso per l'Under 16! E proseguiamo con la Over 17! E passiamo ora al reparto dedicato alle straordinarie coppie di quest'oggi! Applauso anche per loro! Ed in teoria in questo gruppo oggi dovevano far parte anche loro, visto che ci hanno regalato e omaggiato alcuni istanti di danza, ma loro li vogliamo presentare come i protagonisti assoluti, gli artefici di tutto quello che stiamo vedendo in queste serate, i pilastri portanti della Magalegna Rodense! Signori e signori, per voi Roberto e Romina! Applauso! E ovviamente con la loro presenza ci tengo anche a ringraziare per l'electra service di Marco e Antonello Macioni per tutto ciò che è audio ed immagine di quest'oggi per l'allestimento!